Una gara appassionante, una gara divertente, quella che abbiamo visto quest'oggi ad Hukvilsen per l'inseguimento maschile, dove arriva la terza vittoria stagionale per quella che è la grandissima rivelazione di questo inizio di stagione. Il classe 97 norvegese Sturla-Holm-Legrid, che ha fatto bene tre vittorie ed è secondo in questo momento in classifica generale alle spalle del connazionale Johannesburg, veramente in un inizio di stagione clamoroso per il 23enne scandinavo. Ma la gara di quest'oggi ha visto un'altra stella, un'altra giovane stella brillare e ci fa molto piacere il fatto che questa stella sia italiana. Didier Biona, classe 2000, primo 2000 appunto nel biathlon in generale tra uomini e donne ad entrare in top 20 in una gara di Coppa del Mondo. Ed è il primo uomo addirittura tra i classi 2099 ad andare a punti, veramente strepitoso oggi Biona che recupera ben 21 posizioni e schiude in diciannovesima posizione dopo essere partito quarantesimo. Chapeau, chapeau per lui. Buon pomeriggio a tutti, amici a passare di sport e ben ritrovati su Magliorino Sport Channel. E sono le stagioni sono in cui prepararvi appunto dell'inseguimento maschile di Hockfilzen 2020 per quanto riguarda appunto la Coppa del Mondo di Biathlon. Con Startlistia che veniva data appunto dalla sprint di due giorni fa che ha visto il poker norvegese con la vittoria di Leigret con 8 secondi su Dole, 20 su Johannes Bo, 43 su Kristiansen e poi lo svedese Samuelsson a 45 secondi. Per quanto riguarda appunto la gara di oggi, Johannes Dole si riporta sotto al connazionale ecoetaneo anch'esso classe 97 norvegese Sturlo, Holm, Leigret appunto e sparano assieme al poligono. Dietro invece recupera qualcosina riportandosi a circa 12 secondi Johannes Bo e si forma una coppia di inseguitori con Samuelsson e Kristiansen che erano separati da due secondi e quindi arrivano assieme appunto al poligono. Poligono dove arriva lo 0 sia per Dole che per Leigret, Leigret che è stato molto più veloce, circa 4-5 secondi guadagnati di shooting time, mentre Johannes Bo commette due errori, due errori che però non gli costano molto. Tant'è che appunto dietro sbaglia Samuelsson, anche lui due errori, quindi Kristiansen si trova in terza posizione ad inseguire in solitaria, parecchio staccato dai primi due, con un secondo gruppo inseguitore formato da Bo, Jacqueline e Ponsiluoma, quindi Bo si riporta comunque in quarta posizione, quindi solamente una posizione persa nonostante i due errori. Appunto questo terzetto di ottimi sciatori, tutti e tre fortissimi sugli sci Bo, Jacqueline e Ponsiluoma, si riportano sotto a Kristiansen prima del poligono, praticamente un paio di secondi di distacco. Nel poligono non sbaglia nessuno, né davanti appunto con lo zero di Dole e Leigret, ancora una volta Leigret più veloce, ma non sbaglia nemmeno Kristiansen, non sbagliano nemmeno Jacqueline con Ponsiluoma e Johannes Bo. Dietro purtroppo due errori per il nostro offer, che sbaglia su due colpi, come del resto detto io, e un errore anche per Kenten, Fillon, Maillet. A questo punto si arriva al terzo poligono con Johannes Dole, che commette tre errori e butta completamente la gara. Un solo errore per Leigret, tra l'altro è stato anche più veloce e quindi è sempre da solo in testa. Mentre dietro non sbaglia nessuno, eccezion fatta per Johannes Bo, Johannes Bo che quindi si ritrova assieme a Dole. Comunque è stato molto veloce e quindi ha guadagnato di shooting time rispetto agli altri e alla fine del giro numero tre riesce a riportarsi sotto di nuovo a Jacqueline, Kristiansen e Ponsiluoma con in scia Johannes Dole. Si arriva dunque al poligono decisivo, più soprattutto per quanto riguarda la seconda e la terza posizione, perché ormai Leigret sembra a posto, sembra poter disputare un poligono tranquillo, un poligono controllato, per andare appunto a vincere la gara. Ma così non è, perché Leigret decide di rischiarla facendo un poligono velocissimo, un secondo e mezzo, due secondi tra un colpo e l'altro, uno zero velocissimo quello di Leigret che va a vincere convincendo questa gara. Mentre dietro sbaglia solo Dole, quindi a questo punto rimangono in quattro a lottare per la seconda e la terza posizione sugli sci nell'ultimo giro, quindi un ultimo giro molto molto appassionante per la seconda e terza posizione. Jacqueline e Ponsiluoma sono andati leggermente più veloci di shooting time, o meglio, Bo e Dole erano comunque leggermente più staccati. A questo punto si forma una coppia di test di primi inseguitori con Jacqueline e Ponsiluoma, seguite da Bo e Christian, sono comunque staccati due o tre secondi. I due norvegesi rientrano intorno alla metà del giro. Nel tratto in salita si porta davanti Johannes Bo che prova a fare la differenza. Non sentendosi sicuro in volata, ma a fare la differenza è un altro, perché proprio mentre Johannes Bo è in testa, Emilien Jacqueline alla sua destra pasta velocissimo, veramente uno scatto fuino quello del francese in salita che riesce a fare il vuoto. Prova a rimanere agganciato Johannes Bo a fatica mentre mollano Ponsiluoma e Christian. Nulla da fare perché Emilien Jacqueline conquista la seconda posizione a otto secondi da Legred, con Johannes Bo che chiude in terza posizione, praticamente staccato di un secondo rispetto a Jacqueline. A 13 secondi troviamo appunto Christian, ancora una volta in quarta posizione, terza volta in stagione per lui in quarta posizione, non è ancora riuscito a salire sul podio. Veramente sfortunato da questo punto di vista il norvegese, comunque ottima costanza per lui, tant'è che comunque è in top 5 della classifica generale. Ponsiluoma appunto in quinta posizione, anche lui a 13 secondi. Troviamo poi Dole a 38 secondi, un po' sconsolato avendo perso diverse posizioni rispetto alla seconda al pettorale 2 di partenza. Tarebo, un altro norvegese a 41esimo. Johannes Bo e Tarebo a 41 secondi. Poi troviamo Kenten Fignon Maier, Simon Eder e Jakob Fack che completano la top 10. Come già detto, diciannomesima posizione per il classe 2000, Biona l'italiano, che ha fatto veramente una gara strepitosa. E speriamo possa in futuro farci vedere delle cose egregie. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi piace, ci raccomando il piacere, iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi anche sulla nostra pagina di Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, il quarto video di quest'oggi con l'inseguimento femminile.